Siamo votati Gesù e Maria e anzitutto come in tutte le messe ho raccomandato un santo Natale a tutti che possa essere un Natale santo perché Natale di incontro con il Signore stiamo celebrando la Messa del giorno di Natale che è la terza delle messe una più bella dell'altra che vengono celebrate e che culmina nella lettura del primo Vangelo del Prologo del Vangelo di San Giovanni che tra l'altro con molti di voi abbiamo potuto gustare quest'anno stiamo facendo gli incontri biblici sul Vangelo di San Giovanni quindi proprio vederlo rigo per rigo, passaggio per passaggio è impossibile farlo in un'omelia perché dovremmo stare un'ora a fare un'omelia che non è assolutamente il caso ma questo Vangelo culmina in due passaggi il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi il Verbo Eterno del Padre, colui che tra poco ne credo adoreremo come Dio da Dio, luce da luce, di vero da Dio vero e poi nella parte conclusiva Dio nessuno l'ha mai visto ma il figlio unigenito fatto uomo che è nel seno del Padre lo ha rivelato anche in quel bambino nato a Betlemme duemila anni fa Dio non si vedeva, era nascosto dietro la sua umanità allora nel Natale dobbiamo sempre riflettere su questo aspetto Dio si dona a noi rimanendo però celato nel mistero quindi come dicevo già nella messa di questa notte se noi non ci sintonizziamo sulle frequenze di Dio noi Dio in questo mondo non lo incontriamo ora durante quest'ultima messa volevo con voi riflettere su questa cosa perché Natale e Pasqua se vogliamo lo si chiama durante ogni santa messa e durante ogni santa messa oggi con voi vorrei approfondire questa cosa c'è una grande educazione della liturgia voi sapete che la Chiesa raccomanda sia ai sacerdoti che ai fedeli la massima osservanza delle norme liturgiche della Chiesa la messa va celebrata come Dio comanda e alla messa bisogna partecipare come Dio comanda attraverso la legge della Chiesa perché? perché attraverso questo si vive una vera e autentica educazione cioè se io vivo bene la messa io sarò messo in condizione di poter realmente incontrare il nostro Signore se la messa non la vivo bene questa cosa non la posso andare adesso andiamo pronti San Francesco diceva il Verbo Eterno un giorno scese dal Padre si fece uomo nel grembo della Vergine Maria e nacque e fu deposto in una mangiatoia guardate che San Francesco per umiltà non si fece ordinare sacerdote perché riteneva il compito del sacerdote troppo alto per lui quando il sacerdote dice questo è il mio corpo che cosa succede? istantaneamente il Verbo scende in quell'ostia e quando il sacerdote lo depone sulla patena si chiama così quel piattino è come se lo deponesse in una mangiatoia questo è il mio corpo il Natale offerto in sacrificio per voi e il sacerdote alza l'ostia offerto in sacrificio quando è che il Signore è offerto in sacrificio? quando è morto in croce Pasqua e sapete la croce Gesù è stato crocifisso per terra e poi la croce è stata innalzata quindi quando il sacerdote dice offerto un sacrificio per voi e alza l'ostia che succede? c'è l'innalzamento della croce Natale e Pasqua sono presenti in ogni Messa ecco perché la Messa è così importante dicevo in questi giorni a qualcuno che una volta un angelo disse un angelo lo racconta non mi ricordo quale è santo del santo curato d'Ars o qualcuno non mi ricordo bene ma il fatto è così che dice un angelo disse della Messa queste parole dice la Messa io sono un angelo io la Messa so che cos'è e come si celebra non la posso celebrare perché questo onore Dio l'ha voluto riservare agli uomini a quelli che sono sacerdoti ma se ti dovessi spiegare bene che cos'è la Messa non lo so fare neanche io perché non lo capisco bene neanche io per quanto grande è questa cosa allora qual è la dimensione in cui incontriamo il Signore lo dicevo già in questa notte sapete qual è? è quella del silenzio perché la notte di Natale è stata la notte del silenzio per l'Antonomasia tra il sedio e il faceto questa notte dicevo quando è nato Gesù non ha fatto il super post su Facebook su Twitter è nato il Salvatore venite tutti quanti non lo sapeva nessuno ha mandato qualche angelo l'abbiamo visto nella Messa di prima ad annunciare ai pastori povera gente che era nato il Salvatore e l'hanno trovato nella più assoluta umiltà nato in una stalla in un posto dimesso alla periferia di una borgata della Giudea che è Nazareth nessuno sapeva niente allora il silenzio è la dimensione fondamentale dell'incontro con il Signore adesso che abbiamo i foglietti della Santa Missione invito a usarli e a leggerli con attenzione perché nella Messa sapete quanti momenti di silenzio ci stanno? piccoli medi e lunghi ce ne stanno tanti allora cominciamo a vedere qual è il primo momento di silenzio che facciamo durante la Messa? io dico fratelli per celebrare degnamente questi misteri riconosciamo i nostri peccati se prendete il foglietto vedete scritto in rosso breve pausa di silenzio a che serve quel silenzio? serve a prendere coscienza che mi trovo davanti a Dio io che sono un povero uomo pieno di miserie e di imperfezioni e invoco la sua misericordia allora il silenzio primo aspetto del rapporto con Dio è quella dimensione che mi fa prendere coscienza della sua grandezza e della mia piccolezza e del fatto che io ho bisogno della sua misericordia quando dobbiamo confessarci se io non faccio bene nel silenzio un po' di esame di coscienza la confessione non sarà fatta bene perché per prendere coscienza delle mie miserie dinanzi alla grandezza di Dio ho bisogno di prendermi un po' di tempo di silenzio vedete quel piccolo silenzio della Messa ci ricorda questa cosa secondo momento di silenzio dopo il gloria io dico preghiamo se ci fate attenzione non comincio subito la preghiera c'è un'altra breve pausa di silenzio a che serve quella breve pausa di silenzio quella preghiera che si fa in quel momento si chiama tecnicamente colletta colletta che non significa raccolta di soldi ma viene dal latino cum leggere cioè la preghiera che io poi faccio ad alta voce dovrebbe raccogliere tutte le brevi preghiere che in quel silenzio voi fate al Signore Signore dà la salute al mio cognato d'accordo fammi trovare lavoro facciamo richieste terra a terra fammi convertire mia madre d'accordo cioè in quel momento di silenzio ogni fedele dovrebbe esprimere o esplicitamente oppure geneticamente Signore ascolta tutte le intenzioni che leggi nel mio cuore e io facendo quella preghiera le raccolgo tutte quante e in quella preghiera le porto al Signore quindi capito abbiamo bisogno del silenzio perché inanzi al Signore noi dobbiamo anche prendere coscienza delle molte cose importanti di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo chiederle il Signore ha detto nel Vangelo chiedete e vi sarà dato cercate troverete bussate vi sarà aperto noi gli chiediamo al Signore aiuto in tante cose che ci abbiamo bisogno il secondo silenzio della missa poi c'è il terzo silenzio quello che faremo tra poco dopo l'omedia del sacerdote io ricordo una volta vi di una missa credo che lo faccia anche adesso Papa Francesco ma credo di sì ma Papa Benedetto dopo il Vangelo si prendeva una pausa di silenzio di almeno un minuto provate a stare un minuto in silenzio dopo l'omedia è tanto io faccio una decina una quindicina di secondi è un silenzio pochino più lungo che cos'è quel silenzio il tempo per hai sentito tre letture hai sentito l'omedia che mi porto a casa di queste cose quindi il tempo per capite un attimo facciamo una sintesi che ha detto Don Leonardo durante l'omedia di oggi oggi sto parlando del silenzio me la porterò qualcosa a casa sto parlando del silenzio cercando di fare eco alla liturgia di oggi terzo momento di silenzio poi ce ne stanno i due più solelli durante la consagrazione io dico questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi in silenzio assoluto alzo l'ostia quello è il momento dell'adorazione dell'adorazione della propria della messa precedente stiamo dinanzi al signore che si offre per noi sguardo fisso sull'ostia dirgli tutto quello che vuoi digli quanto lo ami digli quanto lo adori quello si fa con calma non va bene che uno prende l'ostia e la bassa subito non va bene non deve stare tre ore ma con calma cioè lì c'è il signore l'elevazione dell'ostia e del calice il grande silenzio durante poi c'è un altro momento di silenzio leggete sempre i foglietti pausa di ringraziamento dopo la comunione quello è ancora un po' più lungo quello è più lungo durante la messa perché? perché ha fatto la comunione chi ha fatto la comunione deve avere immediatamente un po' di tempo per stare col signore per parlare per ringraziare per adorare quindi non sono momenti fatti tanto per farli d'accordo oppure momenti di vuoto cioè che noia e qua non si sbriga d'accordo? sono momenti importantissimi perché sono momenti che invitano te a entrare a questi diversi titoli in rapporto personale con Dio nel silenzio per riconoscere i tuoi peccati per elevargli le tue richieste per fare tua la sua parola per adorarlo con tutto il cuore e per parlargli con tutto l'amore di cui sei capace quando ce l'hai dentro di te capito? hai visto che bello? tra l'altro questo silenzio dovrebbe essere circondato dal silenzio che precede la Santa Messa perché io spero quando andrò via che vi avrò fatto comprendere la bellezza e l'importanza del silenzio assoluto da osservare in Chiesa e dopo la Messa perché chi viene come lodevole qualche minuto prima in Chiesa ed è lodevolissimo farlo ho parlato della Messa precedente per prepararsi un po' perché non voglio entrare a Messa che appena entro già al segno della croce oppure sono entrato che stiamo già all'atto penitenziato stiamo alla prima lettura sarebbe molto bello come dice momento io arrivo cinque minuti prima e comincio a entrare nel silenzio della preghiera dentro una Messa per godermela per gustarmela perché se entro capite così dicevo ieri notte scusate ma se fanno un bel film al cinema chi di voi se c'è un bel film al cinema che non vede l'ora se avete qualche passi con cella io qualcuno ce l'ho lo confesso c'è qualche film e quando esce non vedo l'ora che esce perché non c'è niente di male film belli puliti chi di voi arriva un quarto d'ora dopo a vedere un film che sta aspettando che esce qualcuno arriva un quarto d'ora dopo non ci credo d'accordo perché se è una cosa importante non arrivi un quarto d'ora dopo scusate ma a me si chiama un quarto d'ora dopo mi sembra e anche dopo che uno ha vissuto una cosa bella a me lo vedo sempre dopo la messa confessioni dopo la messa soltanto se avete ammazzato qualcuno o se state in punto di morte perché dopo la messa ho bisogno di stare un po' con il signore non è che lo faccio per virtù perché la cosa più bella c'è Gesù nel cuore come fai io non rispetto tutti non voglio giudicare nessuno ma io non lo so come fa uno a uscire di corsa dalla chiesa con Gesù nel cuore come fai io ci devo parlare ci devo stare un pochino insieme qui certo se hai ammazzato qualcuno dici tu non hai devi confessare perché se no sei appena all'inferno perché per carità se no dammi un quarto d'ora di tempo e poi ti faccio tutte le confessioni che ti pare ti saluto oggi no perché oggi dopo la messa vengo a darvi gli auguri oggi si fa una piccola eccezione ecco ma dopo che ho dato gli auguri recupero capito quindi il silenzio il rapporto personale con Gesù perché se questo non ci sta ci scivola tutto quanto addosso e guardate dicevo questa notte non basta essere praticanti a messa bisogna andarci ma bisogna andarci perché uno ha capito la bellezza spero che oggi non abbia trasmesso un pochino ma bisogna essere ben praticanti per incontrare il Signore non basta esserci ma bisogna esserci bene ecco con questo spirito rinuovo i miei auguri di un santo Natale a tutti ecco che possiamo crescere la comprensione ecco se non facciamo queste cose la dimensione di Dio è una dimensione misterica capite non l'abbiamo cioè Dio non è un film che ci vediamo in televisione per accoglierlo devi entrare in questo dialogo misterioso che avviene nel silenzio del tuo cuore se non gli dedichi spazio e tempo non lo puoi incontrare il Signore ecco ci aiuti la Madonna a comprendere e a vivere queste cose e di nuovo con questo spirito e con questa ottica un santo Natale a tutti siamo votati Gesù e Maria 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 Gesù e Maria